Un cordiale buon pomeriggio, si inizia con una buona tre anni solo femmine sul miglio, Zanna Bianca numero 9 non corre, ne rimangono in 10, 1-4 legati dall'apporto di scuderia, almeno al totalizzatore sembra un match, tanto per cambiare, per le due Varen di turno, e cioè la Zania Rob numero 3 Gaetano Di Nardi, la Zerbi Winner con Mario Minopoli Junior. Problemi per il 6, Zenobia Gal prende velocità la macchina. E lotta serrata per il comando, vogliono il Birilli, ma Zania Rob argina la galoppante, Jaira Bargal, poi di dentro la Zelandia con al largo Zanarca. Completamento del lancio in 13 e mezzo, è così una delle favorite al comando. Lunga fila indiana al completamento della piegata. Si completa anche un quarto iniziale, alee, 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 nell'ordine del 29 e un po' di spiccioli. E la Varen di Minopoli prende la via del largo, e così la figlia di Messalina gradatamente va sulle prime. Si completano i 600 in 45-3, si viaggia da 1-15 e mezza. E la Winner Griff va sulla Zania Rob. Le cavalli affrontano la penultima curva. Si completa, riparte la leader e completa il mezzo miglio iniziale in 1-1, 15-7 di frazione. Ha spostato anche Zoe Diel nella scia di Zerbi Winner. Di dentro è la Zelandia. Ora insiste la lieve del francesino. Il chilometro se ne va in 15-8-14-8 di frazione. 500 alla meta, le sorellastre in pole position. Di dentro la Rob, la Winner a largo. La Rob prende nuovamente un po' di vantaggio. 14-1, fanno 1-29-9, tre quarti di miglio. Problemi per Zelandia. Deve accodarsi Minopoli perché la Zania Rob allunga. Allunga, allunga e prende vantaggio. Va in Carburation, Zoe Diel, galoppa la leva di Minopoli. Ci crede l'Omino, ci prova e ci crede. E come ci prova e ci crede l'Omino con Zoe Diel. Zoe Diel, stampa. Zania Rob. 1-59-1, 1-14-4. Cresce, cresce. E come cresce questa toss-out? Mattia Orlando al training, i colori dell'Angelico. Ma in sempre, in Salchi, il preciso, fondamentale, essenziale, Vincenzo Luongo. Zania Rob fa quel che può, ma ha trovato. Driver e cavalla, al top di situation. Terza, Zanarca con l'ottimo Marcello De Nicola. Buona per la prossima. 4-80 in chiusura. 1-59-1, 1-14-4. I numeri. Saluti allo studio centrale.